Mangimi disponibili per pochi mesi e così anche nell'aretino sono a rischio gli allevamenti. Si tratta dei rischi connessi alla dipendenza dall'estero dei cereali messi adesso in evidenza dal conflitto in Ucraina che si ripercuotono sulla filiera zootecnica. Sul tema dell'alimentazione degli animali d'allevamento, Confagricoltura Rezzo ha svolto un'indagine tra gli operatori di settore. Secondo quanto rilevato le criticità riguardano i prezzi, la scarsa elasticità del mercato e la disponibilità dei mangimi. Attualmente gli allevatori si trovano nella condizione di sostenere costi in rialzo anche oltre il 40% a causa del prezzo dei mangimi e dei rincari dell'energia, ma non finisce qui, dichiara Gianluca Ghini, direttore di Confagricoltura Rezzo. Il secondo aspetto critico è che a fronte di una crescita dei costi di produzione non c'è stato un corrispondente aumento di prezzi all'ingrosso. Infine, l'ultimo risvolto preoccupante è che nessuna azienda fornitrice di mangimi garantisce l'approvvigionamento oltre settembre. Un tema strettamente connesso a quello della non autosufficienza della produzione di cereali. I mangimi sono prevalentemente composti da mais, orzo e avena. Occorre una decisione da parte del governo e dell'Unione Europea che punta a diversificare i canali di approvvigionamento e termine a Ghini, altrimenti si profila uno scenario di grande incertezza. Sia la filiera del latte che quella della carne potrebbero subire dei contraccolpi dovuti alla mancanza di mangimi, il rischio è quello della chiusura di molte aziende.